Ciao a tutti, siamo qui al Lido di Milano per parlare con giocatori della EA7 Olimpia di Milano i nostri giocatori di basket per la giornata mondiale contro il razzismo nello sport che si terrà il 21 di marzo in pasta su Twitter, la hashtag TwitterOfRassism, una proposta di tifo positivo andiamo dentro e cerchiamo di incontrare i più giocatori possibili e capire il loro pensiero Hai mai avuto un momento di discriminazione durante la tua carriera? Non lo so, è difficile, non è che posso dire, è solo una scuola di discriminazione perché quando giochi al basketball hai sempre i fanci e sono sempre contro te quindi non posso dire che era una scuola di discriminazione perché non ero mai capito e mi bloccato, non posso dire per sicuro è un bellissimo progetto perché comunque a parte il fatto che si vedono un sacco di ragazzi giovani che vengono con entusiasmo al palazzetto e riempiono costantemente la curva dietro il canestro degli ospiti, è bello perché comunque c'è un messaggio profondo che dovrebbe far riflettere non solo i piccoli ma anche, diciamo, i genitori dei piccoli I wish I had that opportunity when I was their age, you know, because, you know, I was, I'm from Chicago and I didn't have the entire opportunity to see, like, the team play and, you know, you just have them have it's my favorite team right here but, you know, I think it's a great opportunity for them and, you know, just to see basketball at a high level Allora, ciao a tutti, mi piace Sherradio, siamo qui con Bruno Cerella Volevamo iniziare chiedendoti riguardo alla tua associazione in Africa che dà lavoro a più di 40 persone da dove è nato questo progetto e come si sta evolvendo Sì, io ho iniziato questo progetto dopo aver finito di leggere un libro che mi ha spinto a fare qualcosa di benefico un modo di ringraziare lo sport, ciò che lo sport ha dato a me nella vita ho scelto il Kenya perché è un posto dove innanzitutto si parla inglese noi ogni stato, ma soprattutto adesso che stiamo costruendo il nostro campo non solo diamo lavoro alle persone che lavorano per noi in Africa ma anche coinvolgiamo tantissimi ragazzi nell'attività sportiva dove loro praticamente non avendo strutture o club dove praticare lo sport non hanno la possibilità, noi coinvolgiamo praticamente 400 ragazzi di 15 scuole diverse ogni anno nei nostri camp e adesso il sogno è fondare la nostra Basketball Academy Stati facendo un gran campionato, una grandissima Eurolega grande partita giovedì al Bireo obiettivo un po' nascosto del Final Four più che un obiettivo è un sogno, sarebbe bello perché poi sai si giocano a Milano sarebbe bellissimo, però non abbiamo ancora ottenuto il passaggio del turno e anche se l'avessimo ottenuto ci sarebbero ancora i playoff da affrontare quindi la strada è lunghissima, però in fondo a questa strada c'è un sogno che sono queste Final Four è ovvio che noi siamo giorno dopo giorno in palestra per far sì che i sogni diventino realtà Tutto questo momento per chiudere, per farti i complimenti, per fare i complimenti a voi per la grande partita del periodo di giovedì nessuno vi dava nessuna speranza di essere riusciti a vincere per la seconda volta contro i campioni in carica Ma anche quando nessuno ci crede, l'importante è che la squadra ci creda infatti noi ci abbiamo creduto, abbiamo fatto la nostra partita abbiamo portato un risultato positivo a casa quindi anche noi siamo molto felici, ti ringrazio delle tue parole Il campionato è l'obiettivo primario, siamo partiti un po' così così a inizio adesso siamo a 11 vittorie a fila che non sono un risultato scontato per nessuna squadra la maggior ragione è per noi che comunque è vero, siamo la squadra magari che ha investito più soldi che ha i giocatori con il nome più blasonato, tutto quello che volete però alla fine si va in campo e bisogna dimostrarlo questo già negli anni passati abbiamo dimostrato che i nomi non fanno la differenza invece quest'anno, diciamo, nelle ultime 11 partite siamo stati bravi a farci valere make sure you tune in to share radio, the best grazie grazie grazie